passaggio successivo bordo e manici quindi io una parte sono già andata a realizzarla questo è il risultato adesso andiamo a realizzare insieme l'altra se metto il lavoro steso e ve lo faccio vedere in questo modo dovreste credo vederlo meglio altrimenti lavoro così no forse così è più facile allora la cosa che dobbiamo andare a fare adesso è prendere un marca punti io poi vi dico le misure che ho che ho realizzato io così per voi è più facile però fate sempre comunque la prova andate a prendere prendete un marca punti noi dobbiamo appoggiare questa parte in questo modo tirare il lavoro dall'altra e dove si va a chiudere mettere un marca punti da una parte un marca punti dall'altra per sapere quanto deve venire largo il nostro manico quindi qui poi andremo a cucire qui poi andremo a cucire e poi andremo a fare l'altra parte con l'altro manico quello che ci serve adesso è sapere dove dobbiamo partire con il manico io ne ho già lavorato uno quindi vi dico che sono io ho lavorato otto maglie basse per poter lavorare e poi chiudere il mio manico quindi ho messo un marca punti solo perché so che sono otto avendo mani diverse fate comunque un controllo anche voi perché potreste avere una mano che richiede qualche qualche maglia in più o qualche maglia in meno e quindi fate sempre il controllo comunque dovete appoggiare il vostro lavoro in questo modo tirarlo bene e vedere dove si va a chiudere marca punti a destra marca punti a sinistra quando staccate sapete esattamente dove dovete andare ad iniziare con il vostro manico io ho fatto un manico tutto colorato questo di qua lo farò tinta unita tanto perché ho voluto far fuori un pochino di avanzi stava bene mi piaceva l'idea voi potete farli come volete io vi faccio vedere semplicemente l'avvio perché qua sono tutte maglie e poi la chiusura dall'altra parte come cucirlo ma non vi faccio vedere il cambio colore anche perché sono solo maglie basse allora entro dove ho messo il marca punti vado a realizzare una catenella rientro lavoro una maglia bassa e so che devo lavorare otto maglie basse quindi vado a lavorarne una due tre quattro cinque sei sette otto lavorate le otto maglie basse catenella all'inizio devo girare tutta la mia borsa ma poi a quando ho fatto una decina di centimetri poi si gira solo quel pezzettino ricomincio con una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Di nuovo catenella, giro il mio lavoro. Entro nella prima maglia, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vado avanti così creando una striscia tutta di maglie basse che vada bene per la lunghezza del mio manico. Anche qua io adesso lavoro e vi conto i giri, perché di qua non li ho contati, quindi li lavoro e ve li conto e ve li dico. Voi però poi provate il vostro manico perché avendo mani diverse può darsi che avrete più giri o meno giri da fare. Andiamo avanti con la nostra striscia, quando l'ho finita vi dico quanti giri ho lavorato. Ho lavorato 62 giri a maglie basse e poi provando il mio lavoro risulta perfetto, quindi adesso dobbiamo andare a chiuderlo. Allora, ritorniamo sulla nostra borsa, rifacciamo la prova di chiusura in modo da fermare il lavoro. Ora, assistiamo il centro, ci spostiamo e andiamo sull'altro manico, in modo da sapere dove puntare il marca punti per poter andare a cucire il nostro manico. Ora, posizionandolo in questo modo, io vedo che il mio manico lo devo attaccare a questa maglia. Metto il mio marca punti, lo vado a bloccare per comodità, vado a prendere la mia striscia, tenendola in questo modo, in modo che poi andando a chiuderla le due parti si ritrovino all'interno, quindi così e così, vado dove ho il mio marca punti, entro all'interno e vado a chiudere il mio lavoro, aspettate, devo entrare nella maglia davanti, nella maglia dove c'è il mio marca punti, carico il filo e chiudo con una maglia bassissima. E questo lo faccio per le otto maglie che ho lavorato, quindi una, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e otto. Arrivata alla fine, una catenella, stacco il mio filo e ho costruito il mio manico che andremo a cucire per ultimo. Adesso il passaggio subito dopo è quello di prendere nuovamente ago e filo e quindi di andare a cucire tirando il nostro lavoro e quindi riposizionando tutte le varie mollette andiamo a cucire come abbiamo fatto di qua andiamo a cucire questa parte andiamo a bloccare le due parti insieme proprio all'inizio del manico quindi qui le cuciamo insieme poi ripartiamo cuciamo il centro la parte centrale ci ritroviamo dall'altra parte nuovamente andiamo a cucire stringendo all'inizio la base del manico e poi finiamo di cucire il nostro laterale a quel punto ci rivediamo che vi faccio vedere come chiudere il nostro manico siamo arrivati all'ultimo passaggio quindi abbiamo cucito il nostro interno adesso andiamo a cucire il nostro manico quindi il nostro manico andrà cucito con delle maglie bassissime in questo modo vi faccio vedere allora l'unica cortezza che vi posso dire poi vedete voi come siete più comode io sono andata a cucire il manico con un uncinetto più piccolo quindi con un uncinetto del 3 allora entrate proprio alla base del vostro manico del vostro lavoro caricate il filo passate sia da una parte che dall'altra e io per comodità faccio sempre il mio nodino poi questo filo adesso lo andremo a nascondere mentre andiamo a cucire se lavorate voi e se lavorate senza la camera potete lavorare molto più comodamente piegando il manico in questo modo io per farvi vedere devo lavorare un po' così quindi rientro nella stessa maglia ricarico il filo esco e realizzo una catenella adesso entro in ogni maglia sia da una parte che dall'altra che dall'altra lascio il filo all'interno così va a nascondersi sia da una parte che dall'altra scusatemi non maglie bassissime e chiudo con una maglia bassa in questo modo di nuovo da una parte e dall'altra in parallelo esco carico il filo e chiudo con una maglia bassa nuovamente carico il filo e chiudo con una maglia bassa man mano che andate avanti vi accompagnate il lavoro con le mani e poi andate nuovamente a lavorare e fate le vostre maglie basse in pratica vi si crea un cordoncino che è esattamente lo stesso cordoncino che abbiamo sulla borsa si va avanti così fino alla fine arrivate alla fine dall'altra parte si arriva proprio a chiudere con una maglia bassa fino in fondo si fa una asolina una catenella in più si taglia il filo e la nostra borsa è finita ora io ho finito di spiegarvi quello che è la struttura della borsa e tutto quanto spero di essere stata chiara spero che il progetto vi sia piaciuto non vi do nessun consiglio per la chiusura perché ancora non ho deciso come l'andrò a realizzare io poi voglio poter usare sia una facciata che l'altra e quindi sicuramente dovrò inventarmi qualcosa per l'interno ma non so se andrò a realizzare una chiusura come non so se poi andrò a mettere una passamaneria intorno all'interno per nascondere le cuciture e quindi creare una bordura che potrebbe essere uno sbieco nero o uno sbieco grigio insomma non lo so però queste poi sono accortezze che ognuno decide di fare da sé ragazze io ho finito vi ringrazio tutte per aver partecipato spero ci saranno altre occasioni per ritrovarci grazie spero di avervi soddisfatto nella realizzazione di questa borsa e grazie anche a Marisa per i filati e per la nostra shopper da ricoprire buon lavoro oro per i filati di questa borsa